Continuava a spacciare nonostante fosse sottoposto al divieto di tornare nella provincia di Padova. Torna in carcere il pusher tunisino già arrestato dalla squadra mobile di Padova lo scorso primo maggio e indagato anche per violenza sessuale nei confronti di una 14enne a cui aveva venduto la droga. In quell'occasione durante la perquisizione in casa i poliziotti avevano trovato nella sua abitazione 12 dosi di cocaina e dell'ashish. Gli agenti hanno controllato i suoi movimenti in queste settimane e lo hanno visto tornare più volte nell'abitazione e poi spacciare. Un cliente, fermato dai poliziotti, ha raccontato che si era rifornito da lui almeno altre tre volte in questi ultimi dieci giorni. La procura ha disposto così la detenzione in carcere e nei confronti del tunisino verranno pure avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.